Oggi è iniziato il vostro programma, un programma ricchissimo di appuntamenti, quali quelli più importanti? Sono tanti tanti appuntamenti, sono concentrati molto in questa settimana, ma mi piace ricordare che Cagli sarà vicino a Pesaro per tutto l'anno, abbiamo investito tante risorse umane e non solo per realizzare tante giornate. E questa settimana abbiamo mostre, abbiamo diverse concerti, abbiamo tante tante cose, adesso nello specifico forse farei torta a qualcuno nel ricordare tutte. Viviamo ad oggi questa splendida settimana e vi invito appunto a Cagli perché ce ne saranno per tutti i gusti, ma sempre tutto all'insegna della bellezza, del benessere, all'insegna della cultura che è tutto ciò. Questa è una grande occasione per il comune? È una grande occasione per il territorio direi, per il nostro comune, è chiaro in questa settimana, ma io direi per tutto il territorio. È un evento, questo è il Pesaro Cultura, che ha preso questa giusta strada nel coinvolgere tutta la provincia. E credo che gli effetti si sentiranno perché è una provincia bella, è una grande città diffusa la nostra provincia, che ha tutta una sua logica e che veramente va vissuta nella sua pienezza. Quindi grazie a Pesaro, grazie agli amministratori di Pesaro che hanno avuto questa intuizione e vedrete che, chiaramente non in questi giorni, ma nei mesi, negli anni a venire, quanto di buono questa iniziativa produrrà.